A due anni dall'alluvione che ha devastato Livorno, centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare le otto vittime della tragica notte del 10 settembre 2017. Il tragitto ha ripercorso i luoghi del disastro, da collinaia fino ai tre ponti, passando per l'apparizione il parco del rio Ardenza. Accanto ai cittadini, i rappresentanti istituzionali e quelli delle forze dell'ordine, oltre ai volontari che presero parte, nelle ore immediatamente successive al disastro, alle operazioni di soccorso. Un ricordo che resta ancora vivo nella mente dei Livornesi. Io devo dire che in una delle situazioni più drammatiche che la città di Livorno ha dovuto subire, c'è stata una reazione, la reazione della gente, delle persone comune che si sono impegnate per rimarginare una ferita, una ferita profonda. In questo lavoro, indubbiamente, la regione toscana ha svolto un ruolo principale ed assoluto protagonista, perché il commissario e il presidente Rossi, in questi due anni, ha seguito con grande attenzione gli interventi sul territorio per la messa in sicurezza idrogeologica. E dopo due anni sono state concluse o appaltate tutte le 294 opere previste dopo l'alluvione. La regione toscana è impegnato complessivamente 75 milioni di euro per opere di riduzione del rischio idrogeologico. L'obiettivo è stato quello di evitare nuove tragedie e altri morti. L'intento e l'obiettivo era quello di non lasciare da solo la comunità, di non lasciare da solo la città di Livorno e Livornesi. Crediamo che con l'impegno di questi due anni, del lavoro della regione, abbiamo cercato di mantenere fede a questo impegno. Questa era la nostra volontà e questo è il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme dal settembre del 2017. La Fiaccolata è stata uno degli eventi organizzati in ricordo di quei tragici giorni di due anni fa. Ciao, ciao, bello!